Bella a tutti asfaltoni, benvenuti su Leontube, eccoci in questo video per le novità di questo venerdì anche se ormai sappiamo che le novità arrivano comunque un po' possono arrivare tutti i giorni ma andiamo a vedere il grosso degli aggiornamenti di questo venerdì intanto qua vado a fare un po' di shopping ok andiamo a vedere qua crediti, non ci lamentiamo ok, andiamo a riscuotere questi gettoni ok, ci sono le nuove missioni stagione che dopo le veniamo a vedere tanto sono infattibili perché non siamo riusciti a fare nemmeno le altre allora, eventi speciali, niente di nuovo eventi giornalieri, andiamo subito a vedere le novità c'è subito il festival delle stelle della durata di tre giorni, quindi andiamolo a fare come premi crediti dei pacchetti D, C e B progetti della DS e fino a 36 gettoni completando tre gare quindi diciamo possiamo andare a prendere almeno tutti questi premi e facendo tempo in volo e i 360 anche tre di queste se non vogliamo completarlo tutto questo c'era sempre year of the beast anno della bestia andiamo a vedere questo nuovo evento e ok allora ci danno i pacchettini dove trovare pezzi di importazione poi 50.000 crediti fino a tre volte battendo il tempo di 1,20 con la Gagliardo 25.000 crediti per quattro volte battendo il tempo di 1,17 con la Lamborghini Aventador SV Coupé fino a 200 gettoni battendo il tempo con la Lamborghini Asterion questa potreste averla tutti battendo il tempo di 1,15 500 con la Lamborghini Essenza SCV12 4 stelle ovviamente ragazzi qui poi Lamborghini Diablo GT fino a 10 pacchetti andiamo a vedere i pacchetti contengono tutte queste belle carte quindi auto progetti di queste auto qua questo dovrebbe essere lo stesso pacchetto perfetto lì possiamo prendere 10 pacchetti è buono queste praticamente hanno un valore di 700 queste gare se riuscite a farle hanno un valore di 750 gettoni poi con la Lamborghini Aventador SV Coupé fino a 300 gettoni battendo il tempo di 1,14 poi ancora con la Asterion 1,17 da battere andiamo a prendere 250.000 crediti con la Lamborghini Gagliardo 5 stelle andiamo a prendere altri 300 token io qui non credo di averla a 5 stelle poi con la Peugeot Onix 5 stelle batte il tempo di 1,14 andiamo a prendere 2 progetti della Bugatti Vettour Noir e batte il tempo di 1,12 con la Lamborghini S Sian FK37 per avere altri 3 progetti ovviamente tutte auto a 6 stelle altri 3 progetti della Bugatti Vettour Noir e anche con la 6 stelle quindi un bel po' di progetti sono un bel 11 progetti ma allora andiamo subito a fare Aventador SV Coupé ok perfetto queste sono tutte le auto che possiamo utilizzare dobbiamo averle ovviamente nel nostro garage altrimenti non possiamo giocare l'evento o giocarlo solo con le nostre auto andiamo subito a fare una gara per vedere com'è la pista e se riusciamo a fare il tempo facile mi sono già dimenticato 1,17 allora vediamo questa è un'auto che ho al massimo quindi in quel canto dovrei riprendere il premio e se riusciamo a fare un'auto Grazie a tutti Ok eccoci al traguardo Tempo 1.13.5 Quindi dovrebbe andar bene Vinci la gara Completa la gara Ok batte il tempo di 1.14 Era perfetto E questo l'abbiamo fatto Adesso andiamo a prendere Ok qui abbiamo visto la pista Andiamo a vedere gli altri eventi Perché ragazzi Per chi ha il pass c'è un bel evento Intanto abbiamo fatto Una missione Allora sempre nei giornalieri Andiamo a vedere Caccia all'auto Maserati Alfieri Quindi per chi non ce l'ha Potete fare questa caccia all'auto Della Maserati Alfieri È una macchina comunque abbastanza Comune Però vi può aiutare Per completarla 3 pacchetti Battere il tempo di 46 Con un'auto di classe D Per avere i 3 pacchetti Con la Pininfarina H2 5 progetti Con la Resvani Bistix Altri 5 progetti Battendo il tempo di 43 secondi Questo Non lo vado a fare Perché diciamo Non mi interessa Sono già Fu Anche se era partito Ok Allora poi Questo è ancora Il Red Bull Showcase Quindi Quello da fare con Le auto Io ho già fatto Tutte quelle In cui avevo La rivolta delle auto Apex AP Zero Per andare a prendere Prezzi di importazione Oltre che degli altri Piccoli premi Questa era la solita gara Finale Della caccia all'auto E allora Eccola qua La caccia all'auto Per chi ha il pass Quindi La caccia leggendaria Arash AF10 E allora Con auto di classe C Battendo il tempo Di 36 secondi Andiamo a prendere I tre pacchetti Uno ovviamente Sempre completando la gara E altri 10 10 progetti Garantiti Con la Ford GT Battere il tempo Di 34 secondi Con la Cadillac C& Concept Battere il tempo Di 33 secondi Andiamo a fare Quello con la Cadillac Personalmente Così Credo sia Più complicato Farlo con la Cadillac Che con la Resvani Perlomeno Mi trovo meglio Con la Resvani Ma andiamo a vedere Allora Andiamo a vedere La pista Corsa Cittadina Ma andiamo a vedere Ok 35 quindi tempo fattibile Ok abbiamo preso il progetto in questo caso due pacchetti e un altro progetto garantito Intanto di quest'auto Arash AF10 forse c'era stato il gran premio visto che ho già dei progetti Allora andiamo subito a vedere quest'auto 4 stelle auto di classe B Grado 3.112 quindi un'auto non particolarmente prestante diciamo 188 progetti da raccogliere Sono 55 la prima stella 35 la seconda 44 la terza e 54 l'ultima stella Andiamo a vedere nel garage dove si posiziona tra le auto di classe B Eccola qua è una delle ultime diciamo Però magari un'auto buona da guidare potrebbe tornare comoda per qualche evento E quindi andiamo a fare quest'auto per ampliare il nostro garage Questo che c'era già da prima dell'aggiornamento L'Elite classe C con quindi le auto queste Quattro auto Gagliardo Ferrari 599 Arine Rosseria McLaren GT I premi qui andiamo a prendere sempre i gettoni Manca Ok manca la Corvette Stingray che io non la vedo perché non avendola Non ce l'ho nel garage e non mi compare proprio qui Perfetto quindi posso usare queste quattro auto Andiamo a prendere anche qui un bel po' di token Questa è la solita gara E quindi diciamola passiamo avanti Questa vediamo mi ricordo se l'ho fatta Si l'ho fatta ok Perfetto per i giornalieri diciamo che abbiamo un po' visto tutto quanto Multigiocatore 1 contro 1 Solita sfida Solito premio Vediamo se c'è sempre una Lamborghini La Lamborghini veneno Ok quindi solita corsa ai crediti Senza nessun premio in particolare Allora qui ragazzi ci sono Tre Tre multiplayer queste due settimane Allora andiamo a riscuotere il premio del multiplayer 2 della scorsa settimana 150.000 crediti Che fanno sempre piacere Poi Andiamo a riscuotere il premio Dove sono riuscito ad arrivare nel Legend E qui andiamo a prendere tutti i pacchetti Diciamo il top dei pacchetti 10 gettoni Buono ho trovato la Fenir Cioè no quella era quella garantita Non l'ho trovata la Fenir Peccato comunque siamo lì Stiamo quasi per sbloccare Mancano tre progetti Ok quindi serie classica Normale con espulsioni I traguardi sono a 30.000 Le auto La Cura La Mercedes Andiamo a vedere più avanti La Chevrolet Corvette Due progetti Perfetto Pacchetti Platinum Con Chevrolet Corvette ancora Pacchetto Legend Andiamo ad aggiungere la Zembo Questo giro Quindi Zembo Meccae ZR1 E alla fine Prezzi epici di importazione Delle auto presenti nel Multiplayer I premi di ragguardo Sono sempre Gli stessi Questi per le prime 3.000 Poi aumentano Raddoppiano No non raddoppiano Aumentano un po' Salendo le posizioni I premi di lega come sempre I vari pacchetti Che andiamo a prendere Multiplayer 2 Serie limitata Finale della stagione Della durata di soli 7 giorni Qui purtroppo Già l'avevo visto prima È 30.000 Andiamo a prendere Progetti Di importazione Negli ultimi 10.000 punti Delle auto Del pass E poi i vari pacchetti Questi sono sempre Delle auto Del pass Dove potremmo trovare Dei progetti Per farci salire L'auto Quindi potreste Provare a puntare Un po' più su questo Ma questo va fatto Con Vedete i pacchetti Vanno a salire In questo caso Sto andando indietro Quindi vanno a decrescere Potreste Bisogna giocare Con le auto Del nostro garage E con La benzina Quindi Io in questo caso Ho queste poche auto 5 E vedremo Cosa riuscirò A fare 30.000 sono tanti Dobbiamo anche vedere Quanti punti da Terzo Multiplayer Bugatti 110 E Eccola qua Questa è Senza benzina Quindi possiamo Giocare all'infinito Con questa Bugatti I traguardi Sono a 3.000 Andiamo a prendere Un progetto Pezzo epico Di importazione I premi finali Qui sono Sempre kit Carrozzeria Premi Lega Invece Crediti Allora Non abbiamo visto I premi Dell'MP2 Ma sono Tutti i pacchetti Allora Per le posizioni Abbiamo Questi Pacchetti Dei pezzi Di importazione Quindi Buono Diciamo Solo che è difficile Arrivare nei primi 1000 Premi di Lega Invece dovrebbero essere I pacchetti Eccoli qua Quindi qui più si riesce A salire di Lega Migliori saranno I nostri Premi Il clash E' finito Quindi avrete riscosso I premi Il club Ancora una settimana Da fare Stagione club Andiamo a vedere Quindi se Nel negozio Intanto Nel negozio Hanno aggiunto Questi pacchetti Uno da 100 Con le chiavi Delle auto E uno da 750 Per i progetti Però di queste tre Essenza SC SC 20 18 SC 20 Altro pacchetto Da 900 Con Lamborghini SC 20 18 Essenza Ok Perfetto Quindi Questo E questo Sono gli stessi Pacchetti Ma andiamo a vedere Le auto successive Chiron Reggera Fenir E Senna Diciamo dai La Achilon Di qua E di qua Onyx Aventatore SV Coupe Chiron Reggera Fenir Senna Achilon Ok Ci sono queste Due auto in più Quindi La Onyx E la SV Coupe Che però si fanno Con lo Starway Andiamo a vedere qui La frequenza Delle altre auto Allora 20% Per Gli oggetti in vetrina Epico 10% Andiamo a vedere L'altro Ah però Questo costa 900 Ok Questa è la frequenza 20% 10 è uguale Meglio questo qua Sembra Di pacchetto Ok Poi c'è il pacchetto Per la Lamborghini Siano La Contach Deve essere sbloccati Le condizioni Lamborghini Sesto elemento Abbiamo i pacchetti Per la Reventon Roster Del Gran Premio Pacchetti Della Diablo Pacchetti a non finire Qui ragazzi Guardate quante Pacchetto 4 luglio Questo non l'avevo Mica visto 900 Per la VXR Bail Baili Blade GT1 La frequenza 10% E poi i soliti Progetti Allora ok Abbiamo comunque Visto anche questo Andiamo a vedere Le missioni Della stagione 5 Allora Episodio 5 Vabbè Segui avvitamenti Completa corse Negli eventi speciali Quindi Grand Prix E l'altro Non eseguire Nessun salto In una singola corsa Classe A Grado 1800 Dobbiamo usare Almeno un'auto Che abbia grado 1800 Che sia una classe A E qualsiasi corsa Va bene Quindi anche il multiplayer O anche le corse Giornaliere Ad esempio la corsa I crediti Esegui salti a San Francisco 25 salti Esegui nitro perfetti Una singola corsa A Roma 8 nitro perfetti Sappiamo come farli Si lancia il nitro perfetto Poi si stoppa E si rilancia Installa pezzi di importazione Potenziando quindi Le nostre auto Apri pacchetti di carte Basta fare La caccia all'auto Esegui Onde nitro In una singola corsa Nel multigiocatore 3 Quindi bisogna fare 3 onde nitro In una gara Del multigiocatore E qui arrivano Le 4 missioni Impossibili Perché la SC20 A 5 stelle A New York Che batte 87 secondi Arriva primo Per 3 volte Con la Lamborghini Senza SCV A 5 stelle Esegui 360 In una singola corsa Con la Lamborghini Miura Concept 5 360 A 4 stelle Derava per 20.000 metri Con la Lamborghini Sette elemento A 4 stelle Quindi queste Sono molto difficili Da fare Dovete avere un po' Tutte le auto Come era per Le vecchie missioni Dei vecchi episodi Esatto E quindi Qui Chiudiamo La nostra Rubrica Del venerdì Un saluto In particolare A Marco T E Come sempre Se vi è piaciuto Potete darci una mano Un bel mi piace Iscrivetevi al nostro canale Cliccate la campanella Per non perdere Gli aggiornamenti E Lasciate un commento Che è sempre Gradito E ci vediamo presto Con altri video Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti